salve carissimi c'è tutto biso francesco e bentornati nella soffitta di camera mio benvenuti se è la prima volta che venite a visitarla quest'oggi è giunto alla fine del mese è il 30 di novembre e quindi vi aspetta il video letture e acquisti del mese di novembre video nel corso del quale vi farò vedere quelli che sono stati tutti i miei acquisti tranne quelli di ho visto cose che avete già avuto modo di vedere in un video dedicato e tutte le letture che ho fatto nel mese di novembre laddove non ho fatto un video frontale dove ho fatto una recensione un pochettino più approfondita magari vi dirò qualcosina di più sulle storie e i volumi che vi mostrerò man mano come per i video precedenti il video sarà diviso in più porzioni dove vi mostrerò di volta in volta per casa editrice che cosa ho acquistato quindi se vi interessa solamente uno specifico settore del fumetto o una specifica casa editrice guardate un attimino la suddivisione del insomma il sommario il minutaggio così che possiate andare direttamente sulla casa editrice che vi può interessare partirei da disney dove non è giustamente impossibile sostituire il topolino questo mese cinque numeri dal 33 88 89 90 91 e 92 storie sicuramente di spicco quelle di copertina quindi il ritorno di mister vertigo la storia di ser topleton che non mi ha convinto al 100% ma è stata può essere interessante e caccia a paperinic quindi una buona mesata molto leggibile molto fruibile e alcune di queste storie potrebbero avere un diciamo una loro vita extracto polino nel breve nel medio lungo periodo passiamo a un volume di cui non ho fatto una recensione frontale ovvero sia le grandi sfide zepo pelone versus bassotti sesto e ultimo volume della etichetta disney team le grandi sfide nulla da dire è un volume che fa piuttosto bene il suo lavoro storie a mio parere non memorabili ma comunque dedicate alla tematica dell'albo quindi se vi può piacere un albo che mostra i bassotti cercare di arruffare tutti i soldi di zepo pelone di attaccare il deposito e quant'altro è un volume che si difende piuttosto bene per il resto senza infamia e senza lode sappiamo che dal prossimo numero ci sarà una rivisitazione della testata ogni anno sta diventando tematico il prossimo anno è a quanto pare dedicato alla storia i rapporti tra i vari personaggi nelle varie epoche storiche non mi pare un tema chissà quanto interessante però valuterò il sommario del primo numero e vi saprò dire altro albo che ho letto del tutto a sorpresa i classici disney numero 69 numero 9 indiana pips alla ricerca della civiltà perduta l'ho preso perché non avevo preso nulla da casa in realtà quindi l'ho comprato in edicola in stazione andando verso il lavoro sperando che la formula potesse essere un filino migliorata rispetto alle solito rispetto ai primi numeri ed effettivamente ci ho visto un minimo di impegni in più intendiamoci la storia è proprio banale banale indiana pips trova una mappa prova a decifrarla quindi va in giro per il mondo perché forse spera di trovare qualcosa legato alla mappa che ha trovato durante una sua ricerca archeologica e quindi si imbatte in tutta una serie di vicende varie eventuali ogni volta capirà che probabilmente non era quella porzione del mondo quella interessata dalla mappa e quindi si sposterà in un altro posto del mondo compirà un'altra avventura non troverà quello che stava cercando quindi viaggerà rivederà la mappa capirà che forse potrebbe essere in un'altra parte del mondo eccetera 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 cioè formula abbastanza stanca in realtà però funzionale a far andare indiana pips in giro per il mondo senza che poi trovi effettivamente nulla fino al finale mi è piaciuto che in questo caso l'epilogo fosse stato scritto ad hoc andando ad ampliare le ultime due storie ed andando in un qualche modo a dare un senso a tutta quanta l'avventura che aveva fatto fino a quel momento quindi si è cercato di fare qualcosa di più però ancora si può fare di meglio proseguiamo con un altro albo anche questo qui di cui non vi ho detto nulla non ho fatto un video sopra il settimo numero del manuale dei giovani marmotte sul quale non ho in realtà nulla da dire mi dà fastidio effettivamente che i primi numeri avevano la costina alternata di colori poi adesso stanno andando proprio molto random scegliendo il colore principale dell'albo però verranno fuori costine tutte colorate lì va un pochettino a gusto mi piacciono gli editoriali al centro che li avevo snobbati nei primi numeri ma risultano forse tra le cose più interessanti da leggere all'interno di questi volumi le storie italiane all'inizio hanno una qualità un po' altalenante a seconda dell'epoca in cui sono state scritte però tutto sommato gradevoli le danesi vuoi per brevità vuoi per tanti altri motivi in alcuni casi sono piatte da far paura in altri casi riescono ad essere abbastanza divertenti comunque un albo che mi piace mi piacerebbe ecco rivedere la master story di Sisti storia che non ho mai letto e che mi piacerebbe rivedere in una qualche maniera perché sembra potenzialmente interessante passando ai volumi che ho già avuto modo di parlarvi nel volume sicuramente c'è questo Topolino Writer's Edition dedicato a Rudy Salvagnini un bel numero molto divertente ma che riesce con le storie soprattutto di Topolino con Topolino protagonista ad essere particolarmente avvincente un albo che mi sentivo di consigliare sul quale non spenderò più parole invitandovi nel caso di andare a recuperare la video opinione in merito proseguiamo con acquisti da edicola la parte Disney non finisce più effettivamente con i numeri dal 33 al 37 dei capolavori della letteratura Disney quindi varie opere parodizzate la sto continuando a seguire non la sto leggendo in realtà ma praticamente queste storie le conosco tutte in questo formato sono molto molto piacevoli ed andare a recuperare ed andare a rileggere nel caso in cui volessi andarle a rileggere con un apparato redazionale almeno per quello che erano i primi numeri ma presumo che sia la stessa cosa anche qui molto 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 corposo consigliati vi direi quasi tutti questi sicuramente Paperino e il Signore del Padello che mi piacque mi piacque tanto una ottima parodia e il Dracula di Bram Talker che contiene anche Quack Light vampiri fascinosi e paperopoli storia bellissima molto divertente di Roberto Gagnor con i paperi in una bellissima parodia di Twilight arriviamo quasi in conclusione con Duck Tales secondo numero vi avevo detto che ero in dubbio se prenderlo o meno ma il fatto che su Disney Plus ancora non stiano proponendo gli episodi della seconda stagione mi ha fatto dire ok dai diamoci una seconda letta ad altre storie di questo ciclo il mio giudizio non cambia in realtà sono storie tutte molto leggere con un character design che ricorda moltissimo quello del cartone animato è praticamente identico apro pagina a caso senza timori di grossi spoiler storie che nel giro di dieci pagine però devono avere il loro incipit il loro svolgimento e la loro conclusione andando un pochettino a sminuire secondo me il lavoro che ci sta dietro alle Duck Tales animate non è come ho sentito dire da qualcuno una trasposizione della serie resa a fumetto si tratta di storie indipendenti e slegate inserite all'interno se vogliamo della continuity della serie visto che comunque sarebbero dei filleroni della serie di Duck Tales in alcuni casi sono storie intriganti, interessanti in altre trovano un po' il tempo che trovano mi sembra di intuire però che qui vengono poste le basi in un paio di queste storie per eventuali sottotrame che magari verranno proposte all'interno dei prossimi volumi continuo a ritenere che saranno tipo 4 o 5 volumi visto che la serie si è già conclusa in America da un pezzo l'altra nota secondo me dolente è che non mi viene segnato nel indice da dove provengono le storie quali sono gli spillati americani di riferimento perché a volte si fa dei salti a volte si sceglie di mettere prima una storia piuttosto che un'altra quindi si va un pochettino in disordine però si poteva inserire e manca secondo me la cover gallery e considerando quante varianti sono state fatte su Duck Tales vedere effettivamente qui una copertina all'interno la stessa immagine sul retro la stessa immagine con i titoli degli episodi è un po' sminuente cioè hanno fatto davvero tante cover in alcuni casi anche molto belle e sinceramente perderle è un po' un dispiacere lato Disney chiudiamo con i due topolini fuori serie da un lato Wizard of Mickey l'oscura profezia e PK Ur-Evron di questo ho avuto ampiamente modo di parlare questo qui mi è piaciuto tanto c'è del buon coraggio da parte di Luca Barbieri di rivisitare il mondo dei Wizards e farlo piuttosto bene con un buon contributo grafico da parte di Lorenzo Pastrovicchio PK Ur-Evron meglio dei precedenti ma perché i precedenti erano molto 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 scredenti buoni disegni mi sembra che ci siano un po' di problemi di coerenza anche con gli stessi due episodi di Gagnor precedenti il risultato finale è una storia che poteva essere bella ma finisce per essere una corsa contro il tempo per mostrare più vicende possibili diventando quindi dal mio punto di vista abbastanza noioso difficile da seguire perché molto veloce troppo veloce peccando di caratterizzazioni di personaggi che sono completamente piatti o poco approfonditi anche dove potrebbero essere personaggi interessanti quindi come sprecare un intero pantheon di personaggi creato ex novo col dubbio lo seguirò continuo ad amare PK continuerò a seguirlo certo è che effettivamente un po' la voglia mi sta passando rimaniamo in casa panini ma passiamo ad un altro brand se vogliamo della casa editrice ovvero sia DC Comics è anche vero che molti degli albi che vi mostrerò sono direttamente in lingua inglese tre Joker uno se non sbaglio questo dovrebbe essere il due e infine il tre ho letto tutta la miniserie qui ho perché il primo l'avevo già messo via in libreria qui ho il primo in italiano che rispetto agli altri ha una breve didascalia sul retro cosa che gli altri non hanno una bella miniserie che non va ad innovare il personaggio del Joker ma va a puntualizzare diversi punti sul personaggio e diversi punti sul suo rapporto con Batman quindi miniserie per me assolutamente promossa mi è piaciuta molto anche se il finale in sé e per sé le ultime pagine e l'epilogo l'ho trovato un po' fuori posto proseguirei con The Flash volume 11 The Greatest Trick of Fall torna il trickster personaggio che non conoscevo un volume che mi è sembrato molto filler sul quale non mi dilungo perché in realtà ho già registrato l'ho già anzi realizzato il video sopra uscirà nel corso della settimana quindi non ve la faccio troppo lunga una buona lettura un buon proseguo per la run di Williamson per quanto sia a mio parere un po' fillerino come evento e proseguiamo sempre con DC con Batman la maledizione del Cavaliere Bianco di Sean Murphy secondo atto della serie del Cavaliere Bianco sempre ad opera di Sean Murphy entra in campo Azrael c'è un Joker che è uno spettacolo e c'è un Batman davvero davvero in crisi rivisitare tutta la mitologia di Gotham prenderne i punti salienti e reinterpretarli non è facile ma quello che Sean Murphy fa è davvero magnifico senza contare il contributo grafico che è davvero spettacolare pagina dopo pagina evento dopo evento volume serie consigliata per gli amanti di questo universo vi consiglio però di recuperare il Cavaliere Bianco che reputo essere superiore per idee per concetti un po' meno per il finale che ho trovato un po' un cercare di ritornare sui binari classici qui non c'è lo stesso impatto dell'evento bomba perché comunque siamo già in quell'universo conosciamo già un po' gli stilemi però risulta davvero comunque molto molto interessante se vi è piaciuto il Cavaliere Bianco non lasciatevelo sfuggire se non avete letto il Cavaliere Bianco recuperate prima per l'appunto il primo capitolo passiamo a Odissea Cosmica volume DC eventi con un evento scritto da Jim Starling per i disegni di Mignola evento interessante vi ho fatto un video dedicato anche su questo nulla da dire l'evento è carino è interessante non lo reputo così incisivo così fondamentale per la continuity di DC ma magari sono io che non conosco perché si parla principalmente dei nuovi dei di Apocalypse di Nuova Genesi quindi di tutto un aspetto dell'universo DC che negli ultimi anni è praticamente scomparso che non conosco e quindi non so che tipo di impatto poteva aver avuto su quel tipo di universo storia carina molto molto gradevole con disegni piuttosto particolari ma comunque efficaci e chiudo la mia carrellata sui volumi DC con un volume che però non ho letto che vi faccio solo vedere che leggerò naturalmente a casa perché non posso portarmelo dietro ed è Arlene volume di Siblek Label con questa bellissima copertina in acetato perché sotto c'è una bellissima immagine che in realtà è molto traumatizzante quindi preparatevi per una Arlene con una Harley Quinn davvero davvero intrigante il volume è interamente disegnato e scritto da Stefan Sejic disegnatore che avevo amato sull'Aquaman di The Nubnet quando non me l'ero trovato davanti lo stile di disegno è un po' se vogliamo effeminato per quanto riguarda il Joker ma lo stile di per sé è veramente veramente fotonico in un'etichetta dove ti puoi permettere di fare quello che vuoi una storia che parla del rapporto d'amore tra Harley Quinn e Joker dove ti puoi permettere di parlare anche di cose brutali brutte macabre può essere un vero pugno nello stomaco se la storia è realizzata come deve essere realizzata quindi me lo auguro e intanto vedremo fondamentalmente ci farò sicuramente un video sopra quando sarà il momento e passiamo a questo Miracle Man volume 2 La sindrome del re rosso volume che volevo continuare la serie quindi l'ho continuata senza alcun problema presenta come puoi vedere una parte nera che dovrebbero essere gli extra quindi metà dell'albo è un extra quindi sarà molto interessante non ho letto nulla lo devo ancora affrontare il primo volume mi era piaciuto tanto non farò un video dopo la lettura del secondo volume perché comunque mancherebbe un terzo per completare la serie nel momento in cui sto registrando sul sito panini hanno appena modificato il prezzo che era segnato stare a 17 euro così come era segnato su anteprima così come l'avevo preordinato ma il prezzo di copertina per la fogliazione il prezzo corretto è quello di 26 quindi chi l'ha comprato sul sito panini a 17 ringrazio perché adesso se ne sono accorti il prezzo è stato aggiornato e anche per la marvel direi che è tutto ma prima di passare ad un'altra casa editrice passiamo prima per panini comics con nome nome di cui ho letto i numeri 1 2 questo è il 3 in realtà quindi 3 e 2 una mini serie urban fantasy molto interessante che nella video opinione non ve l'ho detto comunque riesce a mettere comunque in contrasto il concetto di magia tradizionale e tecnologia e nuove tecnologie con una protagonista giovane che farà della tecnologia il suo punto forte magico e il primo numero di arcadia qui l'ho tirato fuori per poterlo leggere avete già visto che è la variant e la variant in realtà era venduto con un pratico cofanetto scomodissimo ok con tanto di mappa del mondo di questa nuova arcadia e sto sgabbiotto di un plexiglass che contiene un dado che qui è scivolato ma poco male e teoricamente il volume va messo qui per avere il logo di arcadia questo cerchio runico idea carina ma a questo punto avrei fatto un pvc a circondare il volume piuttosto che una scatola un cofanetto che è più grande degli altri volumi sia in altezza che in larghezza senza un reale bisogno tranne quello di tenere il dado perché se vedete faccio vedere come potete vedere è più largo ed è unicamente per tenere un dado quindi non occupare neanche tutto questo gran spazio non l'ho capito sinceramente questa scatola mi sembra proprio scomoda da tenere quando bastava effettivamente fare una confezione che tenesse anche il dado che tenesse anche il dado e poi fare il plexiglass da tenere e togliere direttamente sul volume come era stato fatto per Arlene fondamentalmente però vi posso far vedere che non me lo ricordavo quando ho fatto il video dedicato che queste varianti sono numerate e la mia è la copia 411 su 500 411 tra l'altro scritto a mano di Arcadia farò un video dedicato prima di passare ad un'altra casa editrice vi presento D&D uno scuro desiderio volume ovviamente panini comics 16 euro rispetto ai precedenti che costavano 15 è stato un po' un colpo al cuore effettivamente credo siano 5 capitoli per la lunghezza che ha miniserie che si distacca da quella di Zab che vedeva per l'appunto il party che ormai abbiamo imparato a conoscere ed amare negli altri volumi di D&D tra cui anche il nostro Minsk qui abbiamo questo party con questi personaggi una lunga battaglia una storia scritta su due linee temporali una linea temporale che vi mostro che vede i nostri coinvolti in una maxi battaglia e in parallelo in parallelo le vicende della giovane protagonista in rapida ascesa verso insomma il successo e la gloria all'interno dell'universo dei Forgotten Realms una storia di per sé anche interessante anche perché vediamo il party formarsi giovani amici ma già sappiamo già dalla fine del primo capitolo che uno dei loro amici prenderà una strada differente ci saranno dei percorsi narrativi delle evoluzioni che porteranno gli amici di infanzia gli amici della gioventù a scegliere schieramenti diversi proprio fisicamente a schierarsi e diventare nemici gli uni degli altri in una lunga battaglia e in un lungo percorso che li porterà per l'appunto a questo finale non vi sto facendo spoiler perché effettivamente è la trama del primo capitolo proprio nuda e cruda mi è piaciuta l'evoluzione di certi personaggi il finale l'ho trovato un po' buttato il termine il significato del titolo apparirà chiaro in realtà in seno al secondo capitolo se non ricordo male nel momento che tutta la storia prende una piega differente nel momento in cui la protagonista ha un forte desiderio di un qualcosa un forte desiderio oscuro per l'appunto che la porterà a cambiare personalmente in maniera piuttosto radicale e in questo modo sconvolgerà tutto quanto l'equilibrio dei forgotten realms storia interessante potenzialmente ma con un finale che mi ha lasciato un po' l'amaro in bocca proprio per come finisce non ha saputo coinvolgermi convincermi al 100% mentre invece mi è piaciuto e faccio relativamente poco spoiler perché non ve le farò vedere benissimo che in fondo all'albo ci siano le schede dei personaggi le schede dei personaggi come erano all'inizio della loro avventura quindi quando erano ancora a livello 2 piccinini e come sono alla fine della storia quindi dei personaggi a livello 20 mi è piaciuta questa cosa perché ti dà proprio l'idea di come il personaggio sia in questo caso abbiamo l'evoluzione proprio dall'inizio alla fine quindi l'evoluzione massima è un po' come hanno cominciato a viaggiare quindi ok si tratta proprio però l'idea stessa sono personaggi che sono mutati che sono cresciuti hanno acquisito competenze è una cosa che le vedi tangibili perché per l'appunto hai la scheda a livello 2 e poi la scheda a livello 20 sarebbe stato carino vedere anche qualche tappa intermedia ma secondo me sarebbe stato un pochettino perdito troppo tempo e c'è la cosa per tutti i personaggi del party quindi è molto molto carina come idea molto carino come concept lo approvo tanto passiamo a Sergio Bonelli editore dove vi posso far vedere che ho acquistato e non letto quindi non avrò modo di dirvi molto i numeri dal 66 al 70 del Dylan Dog viaggio nell'incubo che sto continuando quindi ad acquistare l'ottantesimo al momento dovrebbe essere l'ultimo numero della collana quindi mancano gli ultimi dieci numeri quindi un paio di mesi e mezzo quindi nel corso di gennaio i primi di febbraio dovrebbe finire nel frattempo ho recuperato e ho letto il numero 21 e 22 il numero 21 che contiene la storia bellissima attraverso lo specchio storia che ho stramato e che ho avuto modo di in realtà volevo anche rileggere nell'ottica dell'ultimo speciale di Dylan Dog su il viaggio del dell'ultimo speciale di Dylan Dog su lo speciale il pianeta dei morti e contiene un'altra storia che ha un po' di visioni oniriche c'entra poco col tema del ballo sarebbe stato più centrale il tema del sogno a mio parere però ok e il numero 22 vita artificiale il primo numero è una parte proprio come se fosse terminator parlando di un golem quindi la storia si intitola killer ma la storia è proprio quella di terminator c'è un tizio che va in giro a cercare tutti gli hund per ucciderli non è proprio terminator ma più o meno ci siamo e lama di rasoio che vede un mondo un universo piuttosto strano su cui Dylan dovrà indagare nulla da dire nel senso che il fatto di essere all'interno di questo albo rovina secondo me un po' uno dei punti di forza della storia il colpo di scena visto che ti puoi già immaginare che in un albo che si intitola vita artificiale alcuni di quei personaggi non siano personaggi reali però lo stesso concetto che il droide può provare sentimenti può provare emozioni è un concetto che mi ha sempre interessato e quindi è stato comunque una bella lettura proseguo con Zagor Dark World Novels numero 6 Fiore della Notte sono ancora indeciso se farci un video dedicato a questa miniserie di cui ho letto tutti i 6 gli episodi perché da un lato mi è piaciuta come miniserie dall'altro lato non sento di avere troppo da dire dopo aver letto il primo albo è un modo per approfondire il personaggio di Zagor di far conoscere il personaggio di Zagor per ciò che è diventato alla fine della sua vita visto che il personaggio è praticamente scomparso nessuno sa che fine ha fatto e quindi tutti stanno chiedendo chi è che fine ha fatto tramite una serie di 6 racconti che ci mostrano varie spaccettature del personaggio quindi adatto ai lettori neofiti sì e qui ci si concentra su Fiore della Notte una giovane ragazza indiana già protagonista di uno speciale di per l'appunto Zagor che qui viene ripresa un po' per come Zagor l'ha aiutata a nascere e poi di lì a crescere diventare donna albo buono il precedente aveva una tematica secondo me più strong più forte ma comunque una buona chiusura per questa miniserie in attesa della miniserie che sappiamo già uscirà il prossimo anno per il compleanno di Zagor che forse risulterà ancora più intelligente proseguiamo con Dylan Dog numero 410 La Notte Eterna volume ad opera di Claudio Chiaverotti per i disegni di Pietro Dell'Agno e Francesco Cattani visivamente parlando non mi faceva impazzire prima non mi fa impazzire adesso la sto continuando perché comunque volevo vedere questa trilogia di Manaceraccia cosa avrebbe portato si tratta in questo caso qui di una buona storia horror con un buon clima una buona ambientazione la storia precedente sembra quasi slegata a questa per quanto lì diciamo Manacerace veniva evocato qui comincia ad operare quindi sembra che ci sia più ciccia risulta un albo decisamente più interessante del primo che mi aveva annoiato parecchio e con un buona dose di tensione terrore e un buon horror mi è piaciuto leggerò con piacere il terzo la conclusione però non aspettatevi che ricominci a prendere Dylan di qui in avanti per chiudere con Sergio Bonelli editore Dragonero il ribello le figlie di Karnon vi farò un video sopra dedicato volevo farlo insieme al magazine sono ancora indeciso perché il magazine ancora non l'ho recuperato abbiamo Enoch ai testi e il giovane Lorenzo Nuti ai disegni e vi posso garantire che sono bellissimi comunque una buona storia mi è piaciuta non è filler in senso stretto in Dragonero però è filler fondamentalmente però è quel filler che ci sta a mio parere proseguiamo con casi editrici vari ed eventuali a partire da BD Jpop mi restò dato in omaggio questo volumetto da ho visto cose per i vari acquisti che ho fatto Vox Maschima Critical Role le origini immagino che il volume finale sia cartonato grande quanto gli albi panini per intenderci qui si fa davvero fatica a leggere e vi sfido perché sono davvero 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 piccoli stiamo parlando di un albo che è più piccolo di un topolino ed effettivamente le tavole hanno il formato di un comics americano mi è piaciuto mi è piaciuto ha dei bei personaggi una bella ambientazione un bel mondo di fondo mi ha intrigato più di quello che mi aspettassi ho dei dubbi in realtà mi piacerebbe recuperarlo ma il mio timore è il sottotitolo e le origini quindi non è la giocata fatta a critical role ma è il background dei personaggi ok finito di leggere il background la storia si può dire concluso in una qualche maniera o già mi devo aspettare di dover andare a recuperare tutti gli episodi di critical role perché comunque con intel lo faccio volentieri anche perché in italiano lo riesco a seguire bene critical role credo che avrei il problema della lingua e sarebbe un problema tosto per la mole di episodi che ci sono dietro e soprattutto a seguirlo adesso recuperarlo cercare di capire i vari collegamenti e quant'altro già sarebbe un problema per la mole di episodi in più se ci mettiamo la lingua potrebbe essere abbastanza un problema la copertina è di Sejik quindi la copertina è bellissima darò un'occhiata credo alla fine al primo volume se lo riesco a recuperare facilmente nel caso in cui ne sapete qualcosa fatemi sapere sono curioso proseguiamo con Bugs Comics e Samuel Stern speciale come nasce un eroe volume che ho preso perché ero incuriosito dal fatto che volessero fare uno speciale di Samuel Stern prezzo di copertina 5,50 euro so che è uscito ormai più di un mese fa quindi non so quanto sia recuperabile sono 130 pagine le canoniche 130 pagine degli speciali bonelli quindi nulla di nuovo cosa mi è piaciuto di questo speciale il fatto che la storia inizzi come se stessero davvero disegnando sul momento quindi c'è questo elemento metanarrativo che è interessante c'è Samuel Stern che si presenta e poi ci sono varie piccole cose tipo c'è la storia scritta originariamente la diciamo la primissimo esperimento su Samuel Stern c'è l'editoriale dove si parla di chi è il logo i vari personaggi come sono stati creati il character design alternati però a storie vicende più o meno lunghe intervallate a loro volta cioè sia le storie che questi editoriali da una storia che fa da collante quindi si tratta di tante piccole storie che fanno da collante a loro volta agli editoriali con tanto di Samuel Stern che ti invita a ritornare ci vediamo più tardi nel corso del volume carino l'idea è interessante mi sembra un po' sprecata un po' buttata lì si poteva fare forse qualcosina di meglio ma principalmente il mio problema è che avevo letto i primi tre numeri se non ricordo male forse quattro credo tre e poi avevo abbandonato la serie e quindi mi hanno spiegato un po' quelle cose che avevo già letto le hanno approfondite mi è piaciuto molto però alcune cose poi me le sono un po' perse perché effettivamente non avevo seguito tutto Samuel Stern non penso che seguirò altri speciali della serie non ha effettivamente molto senso sono però molto curioso della serie fantasy che verrà pubblicata di qui a breve da Bugs Comics chiudiamo con Bao con La terra il cielo i corvi volume di cui ho fatto un video frontale volume di cui ho a parte questa bellissima pagina mi scorto sempre che non è in quella pagina lì ma è dopo una bella dedica un bel punto degli autori storia che non mi ha convinto non mi ha coinvolto come mi aspettavo mi aspettavo decisamente di più conoscendo la caratura degli autori non è brutta di per sé mi è sembrato un po' un'occasione sprecata con un'ambientazione dove secondo me potevi fare molto molto di più potevi forse usare qualcosina di più nonostante sia un'ambientazione che non mi piaccia e che quindi non avrei seguito con particolare interesse il viaggio di tre derelitti fondamentalmente te scapestrati di tre lingue diverse un italiano un russo e un tedesco in giro per la Russia durante la seconda guerra mondiale ognuno con i suoi interessi i suoi giochi di poteri ma uniti insieme dal fatto che da soli non possono farcela ok un concetto interessante ma poi più la storia va avanti più non capisco dovevo andarmi a parare e il finale mi è sembrato un po' buttato lì penso di aver perso qualcosa probabilmente ci sono dei retroscena ci sono degli elementi che fanno parte della vita di Teresa Ardice e Stefano Turconi che non ho colto e loro volevano raccontare quello ma non avendoli colti ci posso fare relativamente poco se vi piace l'ambientazione se vi piace lo stile di disegno che è veramente fantastico ne può valere la pena in alternativa vi invito ad andare a leggere non tanto il Porto Proibito che mi è piaciuto tanto ma può avere i suoi detrattori quanto non stancarti di andare bellissima quella storia bella 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 straconsigliata di default e questo è un po' il tutto video che è venuto lunghissimo sto vedendo che il registrato supera i 35 minuti quindi video bello corposo farò dei tagli in qua e là ma credo di avere ben poco da tagliare detto questo quindi vi invito a mettere un mi piace se il video vi è piaciuto a farvi sapere se che cosa vi è piaciuto di quello che ho letto se siete d'accordo eventuali con le opinioni che ho lasciato in qua e là dei vari volumi che ho trattato solamente all'interno di questo video e detto questo ci vediamo tra un mese praticamente a fine anno per parlare degli acquisti di dicembre bye bye